E ora parliamo della Festa della Montagna a San Severo di Poti in programma domenica 15 di ottobre dalle 10 alle 17. Ne parliamo con Elena Palazzini della Fattoria in Cammino, una delle organizzatrici di questa seconda edizione della Festa della Montagna. Benvenuta, bentornata. Buongiorno Gloria, grazie, grazie mille. La seconda edizione della Festa della Montagna sarà una giornata piena davvero di tanti appuntamenti. Sì, è la seconda edizione perché l'anno scorso è stata la prima e abbiamo avuto un super riscontro, quindi siamo felici di farla per il secondo anno. Ricordo che è nata dalla volontà appunto degli abitanti di San Severo, anche il ricordo di mio padre che alla fine mi ha lasciato insomma questo luogo dove vivo e dove ho la fattoria in cammino. E soprattutto l'amore per la montagna. E l'amore per la montagna, infatti nella frase iniziale della festa è questo, no? Poi alla fine è il ricordo anche di un altro babbo che ha lasciato un altro pezzo di San Severo a Daniela Valli. Quindi saremo tutti uniti gli abitanti di San Severo, io della Fattoria in Cammino e Mauro ovviamente che è il mio aiutante, Daniela Valli che è all'agriturismo poco più avanti di noi il B&B Country e Federico Lepri che è all'azienda agricola ancora più avanti di vendita di carne. Quindi cerchiamo di far vivere questa montagna ancora una volta con una festa. Si è spopolata però c'è un ritorno di persone importanti, tenaci e davvero molto creative. Infatti questa è proprio la volontà di far capire che comunque tante realtà in Italia, negli appennini e nelle montagne si stanno ricreando. Proprio per questo, oltre alla passeggiata che faremo la mattina con i nostri asini verso i castagnetti di San Severo, come l'anno scorso in realtà con la raccolta delle castagne con il proprietario, sperando che siano cadute perché appunto le temperature quest'anno sono un po' strane. Comunque sarà una bella passeggiata fino a tornare alla chiesina di San Severo dove è il ritrovo la mattina alle 10 per fare il picnic come una volta. Quindi chi verrà porterà il suo picnic, il proprio pranzo al sacco, la coperta per poter stare infatti nel prato intorno alla chiesina di San Severo. Da lì ovviamente all'interno della chiesina creiamo sempre una mostra. Quest'anno saranno le fotografie di noi abitanti di San Severo, quindi non ci racconteremo come l'anno scorso, quindi non andremo a visitare tutte le realtà, ma ci racconteremo quelle foto quest'anno. E il pomeriggio lasciamo la parola per chi sta raccontando della montagna, quindi alle 2, subito dopo il picnic, all'interno della chiesina e all'esterno ci sarà una lettura di poesie e di storie della natura, di vari autori importanti, che aprirai questo pomeriggio con Tommaso Del Rico, che è un nostro grande amico, che ha scritto Montanari 2.0. Quindi Tommaso verrà da noi per raccontare le sue storie all'interno dell'Appennino. Anche lui ha scelto di tornare a vivere in montagna. Quindi la scelta per tutti noi di un luogo particolare, importante, perché comunque per noi che viviamo lì all'Alpe di Poti è un ritorno anche alle nostre radici, perché siamo un po' cresciuti in questa montagna. Per Tommaso è stato un inizio, perché lui arriva da Roma, quindi il racconto di una persona che non aveva mai vissuto in campagna. E poi dopo di lui ci sarà Luca Mattioli, che è un ricercatore della regione toscana, che ci parlerà degli abitanti del bosco, quindi del lupo che è tornato e che c'è sempre stato in realtà anche all'Alpe di Poti e degli altri abitanti, quindi della parte selvatica anche di questo bosco. È importante far conoscere anche chi vive con noi, insomma. Noi viviamo con gli abitanti del bosco e loro vivono con noi. E' importante far capire questa unione. E quanto è importante l'equilibrio tra tutti gli abitanti. Mi piace il sottotitolo di Montanari 2.0, Storie di Sognatori, perché credo che il primo stimolo è proprio quello, il sognare una vita un po' diversa. Infatti il nostro sognatore per eccellenza è Michele Buresti, che ha ritrovato, ha ricostruito una parte proprio del paese di Sansevero, che vedete in foto. E anche lui vi racconterà la sua esperienza, perché appunto era un cittadino che ha scelto di amare questo luogo e di riportarlo alla luce, in realtà. Sì, sì, che poi appunto sognatori non vuol dire così, vivere sulle nuove. No, no, infatti sognatori con i piedi per terra. Siamo tutti ben ancorati per gli animali, per la vita nel bosco, per le ristrutturazioni anche di un luogo, insomma. Eh no, che è fondamentale anche per chi vive in città, il fatto che la montagna sia abitata e sia abitata da persone che se ne prendono cura. Sì, infatti la nostra missione, chiamiamola così, è riportare un po' tutti gli aretini, ma non solo, perché comunque pian piano la montagna sta diventando un luogo, per fortuna, di conoscenze, di scoperta un po' per tutti. E quindi la nostra missione è proprio quella di far capire l'importanza dell'equilibrio, come hai detto te, in una vita, comunque in un bosco, che ha le sue difficoltà, le sue bellezze, in tutte le stagioni in realtà, perché spesso ci dicono, ma in inverno restate a vivere lassù. Sì, sta nevicando sempre meno, purtroppo, ma comunque è un bosco, è una vita in montagna, la nostra montagna in realtà. Mi piace perché siete tutti giovani e questo è anche un bel segno. Sì, siamo persone, insomma, tra i 30 e i 50 anni, diciamo, che stanno ripopolando l'Alpe di Puoti, in questa situazione proprio sansevero di Puoti, che siamo un po' alla metà della montagna dell'Alpe di Puoti, ma abbiamo, insomma, una bella sintonia anche per creare momenti di bellezza, da condividere con tutti e per questo vi invitiamo a partecipare alla seconda festa della montagna, che è appunto in programma domenica prossima, il 15 di ottobre, si comincia la mattina e il ritrovo è alle 10. Alle 10 alla chiesina di San Severo faremo la passeggiata verso i Castagni, picnic, pomeriggio sempre nei dintoni della chiesina e finiremo con l'ultima passeggiata verso il B&B Country, dove Daniela, che è la proprietaria di questo B&B, ci offrirà una merenda. Mi fa piacere ricordare che sarà proprio una festa, ma ogni attività è offerta libera, quindi non ci sarà un prezzo, un biglietto. Vogliamo che ogni persona che fa un'attività decida con il proprio cuore cosa donare per il sostegno, insomma, di questa festa o di chi vive questo luogo. Della montagna stessa. Grazie a Elena Palazzini, della fattoria in cammino per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie Gloria. E grazie anche a voi per averci seguito. Spunti e spuntini termina qui, vi lascio con gli altri programmi di Teletruria e noi ci vediamo domani, come sempre, dalle 13. Grazie a tutti.